E ora passiamo alla pagina dedicata al coronavirus, uno sguardo agli ultimi dati aggiornati del bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione Puglia. Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 9.194 test giornalieri per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.318 nuovi casi positivi. Un decesso è stato accertato. Le persone attualmente positive sono 21.263, mentre 257 sono le persone ricoverate in area non critica e 13 quelle in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono 8.975 in totale le persone decedute in Puglia a causa del Covid.